Anticipazioni il segreto. Mercoledì 9 ottobre 2019. Raimundo confessa a Maurizio di temere che Roberto prima o poi si metterà in cerca di Fernando, complicando le cose con Maria. Ma il cubano ha la testa altrove. La castagneda verso sera nota che tutti sono un po' distratti e pensierosi e pretende le dovute spiegazioni. Nessuno però le fa capire niente. Alla fine Maurizio scopre il piano di Roberto. Vuole raggiungere Cuba con la castagneda. Franziska è interessata al business del riso e parla con qualcuno a cui chiede un grosso favore. Sembra tramare contro Severo. Prudenzio compra la cantina di Fè. Mattias gli suggerisce di affidarsi a un buon enologo per portare egregiamente avanti l'attività. L'uomo in questione si chiama Antonio Marchena. Antoline è arrabbiata perché suo marito è andato alla ricerca di Alvaro e si mette in cerca di Elsa per offenderla. La ragazza però è molto provata e quasi non regge alle sue accuse. Infatti si sente male e si mette una mano sul petto affermando di avere dei dolori molto forti. A casa di Severo intanto c'è molta preoccupazione per il piano di Julieta e di Saul che potrebbe anche non andare in porto. Inoltre il Santa Cruz fa chiaramente capire di avere problemi economici. Irene dice ad Adela che devono partecipare attivamente al progetto di fuga di Saul e Julieta. Grazie a tutti.